live social cari amici di live social ben trovati ancora sulle frequenze di radio 24 siamo in compagnia di maria che salutiamo ciao maria e buongiorno maria pia falcone che parla ciao maria pia ciao io sono giancarlo di live social e siamo pronti appunto per l'intervista grazie per aver accettato il nostro invito maria pia ci parlerà della sua attività molto affascinante di interprete perché appunto maria pia è interprete traduttore in occasione anche di conferenze giusto maria pia ha detto bene esatto esatto diciamo che il mio core business come si può dire è quello di interprete di conferenza per quanto riguarda le traduzioni simultanee durante conferenze eventi di vario tipo bene bene molto affascinante come lavoro quindi mi occupo anche in secondo luogo ovviamente anche delle traduzioni scritte di testi di vario tipo sempre in generale di carattere specialistico perché diciamo che le due attività possono andare di pari passo benché ripeto il la mia predizione anche va soprattutto alla parte dell'interpretazione simultanea perché più social ci permette di essere a contatto con un pubblico con persone e quindi è molto più arricchente sul piano non solo professionale ma anche umano ma il tuo lavoro di di interprete può andare bene anche appunto in caso di conferenze online no assolutamente questa per il momento è la tendenza che sta prendendo piede con una accelerazione precedentemente non prevista proprio grazie o a causa del coronavirus per cui le tecnologie fortunatamente ci sono e molte molti eventi molte conferenze stanno avendo luogo appunto via web magari con delle modalità diverse delle pillole piuttosto che dei lunghi convegni che eravamo soliti appunto o partecipare o tradurre della giornata intera di vario di vario tipo bello del mio mestiere è quello appunto anche di viaggiare di conoscere anche posti belli nuovi magari neanche visto anche dietro casa con il piccolo borgo meraviglioso o una cittadina che magari non ci saresti mai andata o incontri dei personaggi davvero che fanno la storia e tu ti senti piccola piccola al loro cospetto e anche onorata dalla possibilità di tradurli e i nomi che potrei fare sarebbero tanti da Vandana Shiva a Daniel Pennac una forza della natura motos e quindi personaggi importanti del mondo della cultura dell'ospettacolo e prima di lasciarci riasciamo un tuo contatto o anche social magari dove le persone possono contattarti appunto per avere ancora maggiori informazioni sull'argomento dove ti possiamo contattare beh sono sicuramente su LinkedIn con il mio profilo Maria Pia Falcone e la pagina Facebook è The Interpreters by Maria Pia Falcone e sempre su Instagram The Interpreters by Maria Pia Falcone perfetto grande fantasia va bene quindi abbiamo tutti i riferimenti ricordiamo anche c'è anche il sito appunto dell'associazione che hai detto prima giusto? Ricordiamolo anche un attimo il sito dell'associazione è quello di AIC Italia A-I-C Italia A-I-C Italia perfetto A-I-C Italia perfetto Maria Pia è stato molto bello parlare con te molto interessante ti facciamo tanti complimenti e ti salutiamo con un grande abbraccio grazie per l'interessamento e la chiacchiera grazie grazie a te arrivederci ciao Maria Pia a presto buon lavoro a tutti ciao grazie amici di Live Social restate ancora con noi per altre storie ed altre interviste dopo Live Social